Aspetta, non hai partito Ok, ok Allora, mi posso sedere? Vai, vai Quando vuoi? Quattro Tre Due Uno Vai Luca, mi sa che devi fare il contrario Prima il salto, poi il bar Fai sempre come vuole Tre, tre Oh Tranquillo Tu non hai partito, poi il bar 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 Ehi Luca Io non vi sto contando 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 Dai Va bene? Vai tranquillo Sei secco non ti vedi grazie Grazie a tutti. Dai Luke, 5 minuti. Dopo non stoppo? 6 minuti preciso. 6 minuti precisi. Dai, gira sto 100 adesso. Dove cazzo vai? 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 Dai Luca Non devi andare giù Ok 4 minuti 12 minuti tutti Dai Luca Che tempo Sì 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 Facciamo te Per qua 2 Non si muove Dai Fai 100 dai Così forse mi batti Due minuti Mi hai girato a 110 Dopo stop 100 Quanto manca 10 Un minuto Giù col culo A posto Si monta tutti Per vedere i disci 2,5 2,5 15 20 kg 2,5 2,5 15 kg E 20 kg Bene Prova Prova Grazie a tutti Buon No No